La giornata di oggi, come sempre, è teorica e Enzo continuerà sulla presentazione del sito di Gnaglio Sessantino. Con esempio abbiamo veramente un menù di argomenti molto piccoli. Domani mattina abbiamo l'intervento in diretta. Dopo l'intervento in diretta e dopo un piccolo break vi darò io una breve introduzione alla piezochirurgia che sarà oggetto dell'esercizio le pratiche di Gnaglio Sessantino. Facciamo l'intervento, facciamo un piccolo break, vi faccio io un'oretta di presentazione sulla piezochirurgia e le applicazioni di Gnaglio Sessantino, poi facciamo il pranzo e tutto il pomeriggio, dalle due e mezzo, fino alle cinque, dedicato, abbiamo delle macchine della METRON, dei mezzo sargi della METRON, con delle solenze di osso per fare le esercizioni per fare, per chi fosse interessato. Chi non è interessato, io dico, rete di Deguato, quindi anche di conoscere chi non lo usa, di queste apparecchiature, può sempre da bene dare un po' di ripetizione, che vedrà, però penso che sarà una giunta più interessante, perché è molto utile poter fare queste esercizioni e seguire, poi ampliare la teoria anche perché è molto utile, e speriamo che oggi sia da niente. Grazie a tutti.